...che parlo un po' di, diciamo, di... ...fazio del quale... ...no, vabbè, parla del... cioè, diciamo che è contrario all'indifferenza, a non reagire, è quello che può essere un sistema, diciamo così... ...a combattere il sistema! ...che il mio di me è chiaro che io ti aggierò... ...che il mio di me è chiaro che io ti aggierò... ...e che io ti aggierò... ...e che io ti aggierò... ...e che io ti aggierò... ...che non saliremo i nostri pelli... ...messi in pace... ...e che le rose regneranno sempre fuori... ...e che io poi faccio una latissità colombata... ...e che io te metto con la banca... ... delegGO che io, giurmente o velovo bene stare... ...E che giulle da l'espegno... ...e che하то di anche Johnny... ...alle prez intero... ...e che ora è ho giusto tipo... ... ma andata. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione